Pelle Tenerlegno, dal cuore della Romagna una grande risorsa, naturale al 100%, senza addittivi, certificato A1AM+. Pelle Tenerlegno, ottenuto dalla gestione sostenibile dei poschi della Romagna. Pelle Tenerlegno, un ottimo combustibile talmente naturale che profuma di legno. Enerlegno.it 0543 72 96 09 A case murate Forlì, in via Serachieda 1C, uscita E45. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS